Per calcolare l'integrale di radice di x, riscriviamo la funzione come potenza ad esponente frazionario e poi applichiamo questa formula. Otteniamo questo risultato. Per semplificarlo, sommiamo un mezzo e uno, capovolgiamo tre mezzi, che diventa due terzi, e scriviamo la potenza ad esponente frazionario come radicale, ottenendo il risultato finale. Grazie a tutti.